Noi impariamo dalle critiche, noi impariamo dalla sofferenza, noi impariamo dalle sconfitte, dalle vittorie si impara a poco e questa è una cosa che sappiamo ma solo che ce la dobbiamo ricordare. Quindi quando fai un buco nell'acqua, quando ricevi un no o quando la vita ti prende a sberle, prima di tutto succede a tutti, prima o poi, nessuno vince sempre. Secondo, la differenza sta come reagisci, ti abbatti o impari la lezione. Tutto qua. Iniziamo con la nostra intervista. Oggi su Unifans, Emanuele Maria Sacchi. Ciao Emanuele, vorrei chiederti subito che lavoro fai e come sei riuscito ad arrivare a fare il lavoro che fai? Ciao Andrea. Allora, sì, Emanuele Maria Sacchi. C'è chi mi chiama Sacchi, c'è chi mi chiama Emanuele. Va benissimo Emanuele, non chiamarmi Maria. Io sono milanese, nato e cresciuto a Milano e mi occupo di formazione, consulenza di direzione, aiutare le persone, le aziende a ottenere risultati. Se dovessi dare una definizione sintetica direi che è questa. E poi ho scritto qualche libro e faccio anche altre cose, ma il grosso del mio lavoro è stare in aula, fare formazione e sviluppare best practice con le persone. Puoi raccontarci di più su come sei riuscito a entrare in queste aziende e iniziare a parlare di leadership, di carisma, di negoziazione e comunicazione? Sì, io ho avuto una fortuna, perché a volte, come dire, le possibilità, l'impegno, la determinazione, quando incontrano la fortuna, uno più uno a volte fa tre. Ho iniziato a lavorare con un'azienda che anni fa era numero uno in Italia nella formazione, si chiamava Summit e quindi non sono un'autodidatta, nel senso che prima di andare in aula, prima di andare anche a fare il consulente con le aziende, mi hanno, tra virgolette, formato per sei mesi, prima appunto di iniziare a lavorare veramente. Quindi questa è stata una grande scuola, questo mi ha dato delle basi. Io avevo dei maestri, dei coach in gamba che mi aiutavano a tirare fuori un po' la mia personalità, ma la guidavano per fare degli interventi che fossero piacevoli e utili al tempo stesso. Mi sono specializzato nelle soft skills, cioè non tanto cosa proponi, ma come lo proponi. Quindi come hai detto tu, carisma, negoziazione, leadership, vendita, anche se poi all'inizio si parte sempre dall'atteggiamento mentale. Pensa che ho appena fatto un video che è diventato, diciamolo pure, virale, dove racconto la storia di un ragazzo, che tra l'altro è una storia vera, che mi disse, prof Sacchi, io sono appena entrato nel mondo del lavoro, anzi non ci sono ancora entrato, sto cercando lavoro, sono un po' preoccupato perché la disoccupazione giovanile è quasi al 30% nella mia zona e quindi non è che ho grandi possibilità di trovare lavoro. E poi ho trovato un altro ragazzo che invece mi ha detto una cosa un po' diversa. Mi ha detto, prof Sacchi, io sto cercando di trovare lavoro e sono molto fiducioso perché è vero che la disoccupazione giovanile nella mia zona è intorno al 30%, ma questo significa che al 70% io ho probabilità di trovare lavoro. Magari non sarà il lavoro della vita, magari non sarà un lavoro remunerato bene all'inizio, magari dovrò farmi la mia bella gavetta, però ho più probabilità di trovarlo che non di non trovarlo. Non crede? Ecco, questa è mentalità vincente e questa è la base di qualunque tecnica. Le tecniche arrivano dopo, la mentalità arriva prima. Sono assolutamente d'accordo, però hai detto che c'è stata molta fortuna all'inizio per te, però poi subito dopo hai detto che hai studiato, ti sei preparato, hai avuto mentori incredibili. Quindi non credi che sia molta più energia positiva, energia di duro lavoro piuttosto che fortuna? Io stavo, ero un giovane di 23 anni e stavo finendo l'università e come hobby presentavo sfilate di moda, ma non sfilate di alta moda, sagre di paese, sfilate così, cioè per un giovane di 23 anni ti danno qualche soldino, in più stai anche in mezzo alle modelle, cosa vuoi di più? E stavo presentando una sfilata a Varese, nel pubblico c'era l'amministratore delegato di questa società di consulenza che alla fine mi ha dato un biglietto da visita e mi ha detto io credo di volerle offrire un lavoro. Per me, visto che non mi ero ancora laureato, quel lavoro era un'enorme sfida, era una società veramente la numero uno in Italia all'epoca, io sapevo che sarebbe stato un passo molto, molto impegnativo, però è altrettanto vero che quando qualcuno ti offre qualcosa il mio suggerimento è digli di sì, digli di sì, anche se non ti senti pronto, anche se credi non avere le competenze, digli di sì e poi preparati, preparati alla grande per fare il meglio che puoi. Ed è quello che ho fatto e questa è stata la mia fortuna. Sai, molto spesso, questo mi capita anche a me, che quando si inizia una cosa si dice di sì, ci si butta, poi ci si sente un po' impostori, cioè del tipo, sì lo sto facendo, io sto facendo questo podcast, ma ci sono molte persone che lo fanno molto meglio di me, perché lo sto facendo? Cioè mi sento un po' quella teoria dell'impostore. E quindi all'inizio come hai gestito questa cosa? Che ti trovavi in un ambiente, beh, un po' fuori luogo, c'erano persone sicuramente più preparate di te e poi però ti sei messo lì, ti sei messo e hai accettato la sfida? Guarda, all'epoca c'era un seminario che era il nostro seminario top, quello che tra virgolette vendavamo di più alle aziende. E quindi il primo obiettivo era imparare a far bene questo seminario. Solo che le prove le facevi con i tuoi colleghi, che lo conoscevano a memoria e che dovevano fare, passami il termine, un po' i bastardi. Cioè ti dovevano fare le critiche più feroci, tipo tu non sei credibile, secondo me non ci credi nemmeno tu a quello che stai dicendo, oppure tutta teoria niente pratica, e tu dovevi imparare a superare queste obiezioni ed era una grande palestra. Perché finché lo facevi con i tuoi colleghi, non avevi nulla da perdere. Quando poi ti trovavi in un'azienda vera, con persone vere, che magari ti facevano le stesse obiezioni, non cadevi giù dal pero, ma eri già preparato e sapevi già come gestirle. Ecco, io credo che se alla determinazione, all'impegno, all'entusiasmo, a tutte queste cose bellissime di cui si sente parlare, si uniscono anche le tecniche, quelle che oggi chiamiamo appunto le best practice, le pratiche migliori, uno più uno può veramente fare tre. E al giorno d'oggi noi abbiamo una fortuna enorme, lo dico soprattutto ai più giovani, la fortuna enorme è che queste tecniche oggi si conoscono. Una volta si andava un po' a istinto, una volta uno era bravo perché magari c'era portato. Io oggi conosco fior di dirigenti, di commerciali, di persone di qualunque settore che hanno un grande successo, ma hanno un grande successo non perché ci sono nate, ma perché hanno imparato queste tecniche. Le tecniche ci sono, oggi magari ne vediamo anche un paio. Emanuele, quanto è importante la critica, che come hai detto all'inizio ci fai gavetta con queste critiche, anzi c'erano questi che facevano quasi nonnismo verso di te e ti criticavano il più possibile per farti migliorare e dovevi superare questa resistenza. E poi ovviamente se entriamo anche un po' nel più nel dettaglio di come si riesce a superare questi ostacoli, con quali tecniche, eccetera. Ti faccio un esempio. Sono abbastanza popolare sui social, anche se non è il mio mestiere. Però uno che fa il mio mestiere deve essere presente sui vari social. Ora, su LinkedIn, su Instagram, su Facebook, ok. Tempo fa, non molto tempo fa, sono entrato in TikTok. In TikTok sono entrato in contatto con persone che non mi conoscono e quindi di critiche me ne sono arrivate parecchie. Ma chi è questo? Ma da dove arriva? Un altro guru del cavolo, per dirti le più gentili. Le altre erano un po' più violente. Bene, io mi sono divertito, ma veramente divertito, a rispondere a queste persone in modo estremamente educato, ma ho risposto a queste persone. Non le ho bannate, non le ho cancellate. Devo dirti che è stata una grandissima esperienza. Perché poi alcuni di questi no, ma molti, molti, adesso mi seguono e magari mi apprezzano. Sono riuscito, cioè, un po' a cambiare la loro percezione. Noi impariamo dalle critiche, noi impariamo dalla sofferenza, noi impariamo dalle sconfitte. Dalle vittorie si impara a poco. E questa è una cosa che sappiamo, ma solo che ce la dobbiamo ricordare. Quindi, quando fai un buco nell'acqua, quando ricevi un no o quando la vita ti prende a sberle, prima di tutto succede a tutti, prima o poi. Nessuno vince sempre. Secondo, la differenza sta a come reagisci. Ti abbatti o impari la lezione. Tutto qua. È verissimo. Le vittorie sono una validazione di quello che noi stiamo facendo, fondamentalmente. Ovvero, abbiamo, idealizziamo un'idea, un progetto, un business, ci lavoriamo tantissimo, e poi alla fine c'è la vittoria che semplicemente ti dice, guarda, tutto quello che hai pensato per due anni, su cui ci hai lavorato tutti i giorni, è vero, eccolo, è il risultato, è tuo, è spuntato, è innaffiato questo seme, e ora è uscito il fiore, bellissimo. E sono d'accordo su rispondere educatamente alle persone, a questi, perché poi, sai cosa? Questa è una cosa che vorrei chiederti. Hai tantissimo engagement, tantissime persone che ti iscrivono. Io all'inizio, ora come content creator, stavo notando che mi stavo distaccando, ovvero che guardavo i numeri, non guardavo il fatto che dietro 300.000 visual c'erano 300.000 persone che potenzialmente io potrei influenzare e loro possono essere in una realtà molto più difficile, molto più sensibile della mia. Come questo ogni video che tu proponi viene curato? A me piacciono i video artigianali, nel senso che a volte me li fa mia moglie, a volte me li fa un mio collaboratore in ufficio, quando sono in giro da qualche parte me li fa appunto mia moglie, non sono video professionali, mi piacciono i video artigianali, un po' come dire, un po' più autentici, diretti. Ti dirò una cosa che, ad esempio, c'è un video che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni, e quando tu vedi questi numeri ci rimani secco, perché dici, accidenti, in Italia siamo 60 milioni di persone, 3 milioni hanno visto sto video, ok, non è che sono io che 60 milioni di volte ho digitato, va bene? Hai una responsabilità enorme, perché è vero, il web ha spalancato la porta anche ai bugiardi, anche alle fake news e anche a quelli che vendono fumo, però nel web si trovano anche contenuti. Più della metà della popolazione del pianeta è collegata in internet. Se ci pensi a una rivoluzione democratica straordinaria, tutti possono imparare una lingua straniera, tutti possono farsi una cultura, grazie al web. Quindi è vero che quando pubblichiamo qualcosa abbiamo un'enorme responsabilità. Io, ad esempio, nei miei video non mi faccio pubblicità, non dico iscriviti a un corso o cose di questo genere. Se poi uno lo vuole fare, in qualche modo mi contatta. Io faccio dei brevi video di contenuto, delle pillole di contenuto. E forse è per questo che, tutto sommato, di haters ne ho pochi. Dai, mettiamola così. Uno dei tuoi più grandi video, forse proprio questo di cui stai parlando, perdonami se non so se è esattamente questo, perché non ho visto i numeri, però sei tu che parli davanti a tantissime persone, credo forse davanti a un'azienda, e tu sei stato considerato uno dei migliori formatori italiani, addirittura. Ma quali sono le tecniche che tu porti in un'azienda? Cioè, tu ti ritrovi in un ambiente in cui questi fanno forse un lavoro totalmente diverso dal tuo, e tu devi dargli questa carta in più da giocare. Cioè, qual è l'approccio? In cosa consiste effettivamente questo lavoro? Allora, io non ci credo, Andrea, alla motivazione che arriva dall'esterno. Non ci credo a quelli che ti spronano a scalare le montagne, costruire ponti tibetani, camminare sui carboni ardenti. Le ho fatte anche io queste cose, e mi sono anche divertito tantissimo. Ma è una motivazione che dura poco. Io sono fermamente convinto che l'unica motivazione che vale la pena è quella che nasce dentro ognuno di noi, è l'automotivazione. Il mio compito qual è? È quello di far esplodere questa automotivazione, di permettere alle persone di accedere all'automotivazione. E quando una persona si sente motivata? Dal mio punto di vista, quando ottiene risultati. Dal mio punto di vista, quando fa delle cose che gli permettono di stare meglio o di ottenere di più rispetto a prima, ti faccio un esempio molto concreto. Una tecnica semplicissima che chiunque ci sta guardando può mettere in pratica immediatamente. Se alla fine di una domanda, di una qualsiasi domanda, noi aggiungiamo un rafforzativo, ad esempio, il tempo è un bene prezioso, vero? Vero è un rafforzativo. Oppure, nessuno ha l'esclusiva delle buone idee. Dico bene? Dico bene, è un rafforzativo. Se alla fine di una domanda noi aggiungiamo un rafforzativo, e i rafforzativi più comuni sono vero? Giusto? Sei d'accordo? Ne convieni? Noi aumentiamo del 15% le probabilità di ottenere più facilmente un sì. Questa è una tecnica di comunicazione di vendita immediatamente applicabile. Giusto? E siccome è immediatamente applicabile, credo che tu, io, chi ci ascolta, la possano mettere in pratica anche appena finito questo video. Ti pare? Non solo. Se contestualmente il rafforzativo annuiamo leggermente col viso, solo in quell'istante, ad esempio, il tempo è un bene prezioso, vero? Noi aumentiamo di un altro 25% le probabilità di ottenere un sì. 15 più 25, 40% in più di probabilità di ottenere un sì. Scusami. Semplicemente aggiungendo un rafforzativo. Ora, questa è veramente una delle tecniche più semplici del pianeta che chiunque può mettere in pratica. Ecco, quando le persone partecipano ai miei seminari, ce ne sono tante di cose del genere. E quindi, la gratificazione del mio lavoro è vedere come arrivano e come escono, perché? Perché gli dai qualcosa che può permettere loro di ottenere risultati. questa è la motivazione che poi vuol dire il motivo che ti spinge all'azione che mi piace di più. Giusto? Giusto? Bellissimo! Questo l'ho detto perché non lo puoi dire sempre se no sembri un cretino, ma un bravo negoziatore ogni due o tre minuti un bel sì lo raccoglie con rafforzativo. Bellissimo! Veramente, è vero, anche il body language funziona tantissimo, sono super d'accordo, super, super, super d'accordo. Però, però c'è una cosa che non mi quadra. Ovvero che io ho letto un libro e questo libro dice che il 40% delle azioni che noi facciamo in un giorno sono abitudini. Quindi, quell'azione che tu ripeti tante 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 volte è una certa tu stacchi il cervello e la fa normalmente il tuo corpo perché è abituata. Cioè, è abituato il corpo. Quindi, sicuramente la motivazione è l'innesco di poi, per poi creare un'abitudine che ti possa portare al successo. Quindi, quindi sì, assolutamente sì, la motivazione è solamente quella prima fiamma che innesca poi l'incendio e il fuoco. E volevo poi passare al fatto del body language. Come tu hai imparato a usarlo su te stesso? Cioè, nel senso, come, dove sei andato a cercare informazioni per dire io dovrei fare questo su di te, ovviamente. Poi l'hai insegnato agli altri, però prima l'hai dovuto capire tu, immagino. ho trovato due domande in quello che hai detto, provo a essere veramente sintetico. Primo, le abitudini. Gli esseri umani non cancellano le abitudini, gli esseri umani sostituiscono le abitudini, perché è inevitabile avere delle abitudini, che poi sia al 40% più, non lo so. Ad esempio, la parola problema è una parola assolutamente negativa, a nessuno piace avere una vita problematica. quando qualcuno ti dice ciao, c'è un problema, non dirmi che fai salti di gioia. Se noi riuscissimo a eliminare la parola problema, ad esempio, e a sostituirla con situazione da risolvere, situazione da risolvere è completamente diverso, per un motivo. Ho un problema, è statico. Situazione da risolvere è dinamico, situazione da risolvere implica che qualcosa farò, che almeno ci proverò, cambia l'atteggiamento, quindi cambia l'abitudine. all'inizio non sarà spontaneo, perché cambiare un'abitudine non può essere immediatamente naturale, spontaneo, con la pratica diventerà sempre più naturale dire situazione da risolvere. E poi c'è l'altra domanda che mi hai fatto, che adesso mi sono perso sull'abitudine, era quella del body language, del linguaggio del corpo. Anche qua, al giorno d'oggi siamo veramente fortunati, perché c'è un'infinità di libri, un'infinità di seminari, cioè la conoscenza del mondo è a nostra disposizione. Una cosa che una volta era solo a disposizione dei ricchi o dei nobili. Ad esempio, si dice che le braccia concerte, le braccia concerte sia un segnale di chiusura. Balle! Ma chi l'ha detto che uno che ha le braccia concerte sia una posizione di chiusura? Può essere una posizione di chiusura, ma non è detto. Uno sta con le braccia concerte, ad esempio, quando ha freddo. Uno sta con le braccia concerte quando si è mangiato mezzo chilo di tagliatelle. Uno sta con le braccia concerte, ad esempio, quando è seduto, perché magari ci sta anche comodo. Nel linguaggio del corpo esiste solo una regola vera. Tre indizi danno una prova. Tre indizi. Ad esempio, se uno sta con le braccia concerte, poi mi dà la spalla e non mi dà un buon contatto visivo, ho tre indizi che è un segnale di chiusura. conoscere questi indizi è a disposizione di tutti. C'è una scienza della comunicazione. Bisogna solo aver voglia di trovare queste informazioni e poi di metterli in pratica, ovviamente. Mamma mia, bellissimo. E fai molta attenzione alle parole da quello che hai appena detto. Quanto sei d'accordo con questo politically correct? Cioè, io ho sentito uno speech a che tempo che fa e c'era questa questa persona che racconta questa storia. Vado molto brevemente. Fondamentalmente c'era un lupo che era in cima alla montagna, beveva l'acqua e sotto arrivava l'acqua sporca e e giù c'era una pecora che beveva e beveva quest'acqua sporca. Il lupo alla fine si lamentava e diceva che la pecora aveva reso l'acqua sporca. Però però non è possibile perché perché il lupo beveva su e la pecora beveva giù quindi era il lupo a farlo. Tutto questo per dire che fondamentalmente noi dobbiamo usare un linguaggio corretto perché ci sono state persone che hanno iniziato a chiamare prima di chiamarli gay le persone ad esempio froci oppure parole razziste che ora non voglio nemmeno pronunciare e quindi noi dobbiamo stare molto attenti alle parole che noi usiamo perché c'è stata una contaminazione passata solo per questo e lui diceva che di corretto è molto importante per questo. Tu cosa ne pensi? Le parole che usiamo diventano la casa in cui abiti. In psicologia si chiama dialogo interiore è la voce dei nostri pensieri noi parliamo tantissimo non soltanto con gli altri ma anche soprattutto con noi stessi noi dialoghiamo continuamente con noi stessi io credo che chi stia guardando questo video intanto si stia dicendo delle cose questo mi interessa questo non mi interessa questo è vero questo non è vero è un continuo dialogare con noi stessi ora questo dialogo interiore può essere il nostro migliore amico o il nostro peggior nemico dipende che cosa ci raccontiamo ti faccio un esempio ci sono persone che si svegliano al mattino guardano fuori che tempo fa e supponiamo che ci sia il cielo azzurro c'è una luce bellissima vedono questo meraviglioso cielo azzurro e si dicono ma tu guarda se con una giornata del genere mi tocca andare a lavorare oppure devo studiare e ci sono persone che si svegliano vedono lo stesso identico cielo azzurro il cielo uguale per tutti e invece si dicono wow che giornata bellissima guarda che luce non so se l'hai notato cominciano ad allungarsi un po' le giornate a volte le circostanze sono identiche l'ambiente è identico le opportunità o gli ostacoli sono identici il cielo è uguale per tutti è quello che ci diciamo che cambia il nostro atteggiamento il nostro livello di energia il fatto di stare bene o di stare male quindi io credo che la prima sfida a proposito di parole sia ascoltare il nostro dialogo interiore io il mio dialogo interiore negativo perché ce l'abbiamo tutti ogni tanto tutti ogni tanto ci diciamo cose che non ci fanno stare bene il mio dialogo interiore negativo da qualche anno l'ho soprannominato scemo e quando mi accorgo che mi sto dicendo qualcosa che non mi fa stare bene anzi di solito dico scemo sta zitto ad esempio se mi dico che fare quella roba lì è difficile di solito dico scemo non è difficile semmai è impegnativo che non è identico è un po' diverso Emanuele è incredibile quanto carisma tu abbia io giuro è assurdo ti riesco a ascoltare ho anche la tosse oggi perdonatemi se vuoi puoi anche bere un secondo tranquillo vado 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 perfetto grande ma cos'è il carisma? allora ci sono tantissime definizioni di carisma carisma è una parola che ha un profondo significato religioso nelle varie religioni significa dono nel linguaggio diciamo pure laico il carisma è la capacità di impattare sulla vita delle persone esiste anche un carisma negativo ci sono anche dei leader negativi naturalmente pensiamo alle sette o a gente che ha scatenato guerre o cose di questo tipo quindi il carisma è la capacità di impattare sulle persone e la cosa molto interessante è che a differenza del passato dove noi sapevamo che alcune persone erano un po' più carismatiche di altre perché lo percepisci oggi abbiamo decodificato il carisma noi oggi sappiamo esattamente quali sono quelle cose che una persona può fare mettere in pratica a livello di comportamento di atteggiamento e anche di tecniche di comunicazione e che più di altre lo aiutano a sviluppare il carisma il suo carisma visto che non c'è uno stereotipo e nessuno ti chiede di metterti una maschera che non sia adatta al tuo stile ecco è un argomento affascinante queste tecniche sono più di 40 io il mio primo libro si chiama il segreto del carisma è arrivato a nove ristampe che in Italia è un piccolo grande record credo non siamo un popolo di grandi lettori forse perché è un libro che parla anche al cuore e che credo che piaccia anche a chi non ama particolarmente leggere e ti faccio un piccolo esempio di carisma al volo per chi ci segue il mento basso il mento leggermente basso nel mondo animale e noi siamo animali è un segnale di resa quando un condannato a morte sta per essere fucilato di solito abbassa gli occhi e abbassa anche il mento della serie è finita il mento leggermente alto ma non alto così come faceva Mussolini no il mento leggermente alto invece fa percepire esattamente il contrario fa percepire credibilità autorevolezza una buona autostima una buona sicurezza un buon equilibrio di sé quindi quando ti trovi ci troviamo a dialogare con delle persone magari un colloquio importante il mio invito è non tenere il mento leggermente basso perché inconsciamente mandi un segnale di sudditanza psicologica tieni il mento appena appena alto leggermente alto e fa percepire una buona padronanza di te stesso che ti aiuta ma c'è una frase che dobbiamo per forza dire è un tuo post è troppo bella io quando l'ho letta ho detto devo chiedere di questo concetto la leggo se comprassimo spinti dalla ragione non si venderebbero mai beni di lusso cioè qual è questa questo rapporto tra consumatore e chi fa impresa cioè come funzionano a me piacciono le statistiche te lo dico Andrea le statistiche le fanno su migliaia di persone la mia opinione vale uno le statistiche le fanno su migliaia di persone c'è un professore che si chiama Kahneman che nel 2004 ha vinto il Nobel in economia la cosa curiosa è che questo professore Kahneman non è un economista è uno psicologo è la prima volta al mondo che danno il Nobel in economia è uno psicologo e perché gli hanno dato il Nobel? perché questo signore ha dimostrato ma non con delle teorie da psicologo con degli algoritmi con dei dati empirici con delle statistiche che l'80-85% delle decisioni delle scelte di un essere umano hanno una componente emotiva barra inconscia e solo il 15-20% delle nostre scelte sono puramente razionali analitiche logiche prive di qualsiasi contaminazione emotiva cioè siamo animali prevalentemente emotivi facciamo di tutto per essere razionali facciamo di tutto per prendere decisioni concrete pragmatiche coi piedi per terra ma in realtà la spinta è quasi sempre dettata dalle emozioni ecco perché la gente compra bene di lusso ecco perché la gente fuma ecco perché la gente ogni tanto spende di più di quello che pensava di spendere perché vede una cosa si innamora e dice sì vabbè dai stavolta faccio uno sforzo costa un po' di più ma me la compro capire questi meccanismi capire quali sono queste leve emotive è entusiasmante è affascinante si riesce anche a capire quali sono i messaggi subliminali della pubblicità che se ci pensi non sono razionali ma sono assolutamente emotivi ti pare? che grande mi sta piacendo tantissimo sì sì è vero qua ci sta tutto ci sta ma come si come si identifica un leader cioè quali sono tutti tutte le caratteristiche che una persona che ha questo carisma questa leadership cioè tu lo riesci a identificare in mezzo a cento persone un leader non subito a volte sì a volte no dobbiamo essere onesti un leader è una persona che si rende progressivamente superflua un leader è una persona il cui obiettivo non è far sì che gli altri si innamorino di lui o di lei perché è un leader le persone devono innamorarsi degli obiettivi delle mete da raggiungere di quello che devono fare il leader è semplicemente un mezzo per aiutare le persone a remare nella stessa direzione ci sono tantissime definizioni di leadership quella che io preferisco è un leader è colei o colui che crea il contesto dentro il quale le persone esprimano il più possibile le loro potenzialità questo è quello che fa un leader poi come farlo beh ci sono tantissimi strumenti naturalmente e ci sono anche qua delle statistiche che ci dicono quali sono gli strumenti più efficaci nel medio e lungo periodo quelli nel breve e quelli totalmente inefficaci ovviamente Emanuele prima che mi spieghi come si diventa un leader come ci si allena per diventare un leader mi dici dove prendi questi questi big data che poi riesci a sfruttare e utilizzare cioè come fai il tuo qual è il tuo procedimento il tuo processo di studio io ho 61 anni e sono contento di essere un ricercatore uno studioso nel senso che una volta una persona studiava poi entrava nel mondo del lavoro iniziava a lavorare faceva esperienza oggi siamo nel primo secolo invece dell'apprendimento continuo uno studia poi entra nel mondo del lavoro fa esperienza e continua a studiare lavora e continua a studiare bisogna studiare tutta la vita ci sono sempre nuovi prodotti nuovi servizi nuove proposte nuove cose da conoscere io studio mediamente un'ora al giorno devo anche lavorare ovviamente ma un'ora al giorno la studio seguo moltissimo il World Economic Forum seguo moltissimo le ricerche a livello macro che fanno a livello europeo seguo moltissimo la ricerca del CED che è il più grande ente de Moscop più con il mondo delle vendite della negoziazione americano quindi insomma cerco di informarmi e poi leggo anche un sacco di libri viaggiando spesso per lavoro a me piace guidare ma quando sono in aereo in treno io ho sempre un libro dietro di me e a me piace voglio dire qual è il miglior investimento se non noi stessi ti pare? giustissimo verissimo cioè investire su di noi come ci si allena a diventare un leader? perché voglio diventare un leader? voglio creare un ambiente per rendere le persone che mi circondano quella a cui voglio bene far esprimere al loro massimo come che è la definizione che tu hai dato tra l'altro sfatiamo un mito leader si nasce o leader si diventa carismatici si nasce o carismatici si diventa sono pochissime le persone che nascono leader o che nascono col dono del carisma se pensiamo le persone che abbiamo incontrato nell'arco della nostra vita quante persone hai conosciuto Andrea realmente carismatiche competenti sicuramente tante piacevoli pure ma da lì a dire quello o quella è anche carismatica non so tu io qualcuna ne ho conosciuta ma non tantissime il carisma è una merce rara come tutte le cose rare è preziosa la differenza rispetto al passato lo ripeto è che oggi abbiamo decodificato il carisma e anche la leadership è una competenza che si può acquisire esattamente come imparare a guidare un'automobile sul ghiaccio non è una cosa che impari dall'oggi al domani devi avere un bravo istruttore prima di tutto assolutamente sì perché da soli ci impieghi molto ma molto più tempo devi avere un mentore e poi una volta che sai il libretto delle istruzioni devi allenarti a fare pratica ecco perché esistono i seminari alcuni sono delle perdite di tempo altri sono degli investimenti eccezionali come in tutti i settori ci sono professionisti seri e venditori di fumo ma questo accade un po' in tutti i settori dai io voglio farmi un po' più gli affari tuoi perché bellissimo tutto è bellissimo però io vorrei un contesto vorrei che tu mi facessi immergere nella tua realtà di quando eri piccolo cioè ora sei diventato chi sei parli in questo modo sei carismatico hai queste skill da leader ma i tuoi amici i tuoi amici di infanzia quelli con cui sei cresciuto che credo qualcuno si sarà perso qualcuno qualcuno ancora è attorno a te come come poi ti sei differenziato dagli altri cioè qual è stato il tuo la tua marcia in più io credo che la vera sfida l'unica incognita estremamente seria sia capire qual è l'ambito in cui vogliamo esistere lavorare io non lo sapevo io dopo il liceo mi sono iscritto economia e commercio perché non sapevo minimamente cosa fare da grande poi poi la vita mi ha portato a fare il consulente il formatore poi ho fatto dei master di psicologia e devo dire che economia e commercio non mi è mai piaciuta più di tanto e non credo che mi abbia dato nemmeno tanto perché avrei potuto fare altro però è normale non sapere esattamente dove uno vuole andare c'è chi lo sa a sei anni e c'è chi lo scopre a 45 magari quindi questa è la vera sfida una volta che sai qual è l'ambito il segreto è la iper specializzazione mi spiego meglio immagina di voler faccio una metafora allevare canarini c'è un sacco di gente nel mondo che alleva canarini non sei specializzato sei uno come tanti quindi vanno da quello che fa pagare meno sei fregato ok immagina di voler allevare canarini arancioni con le ali nere che invece sono alquanto rari sei specializzato sui canarini arancioni con le ali nere cosa fai? primo ti chiedi al mondo chi è bravo ad allenare questo tipo di canarini ti metti in contatto con queste persone che di solito sono anche disponibili e ottieni informazioni vai sul web e ti fai una cultura su come allevare sti cavolo di canarini dopo un po' magari scrivi anche un breve libricino una breve guida su come allenare canarini arancioni con le ali nere e quindi ti presenti al mondo e dici che tu sei uno dei massimi esperti di come allevare canarini arancioni con le ali nere e se tu sei in una nicchia di mercato un business ce l'hai un lavoro ce l'hai hai clienti che ti cercano non sei tu che li devi rincorrere la fregatura è essere un generalista quanti coach ci sono al giorno d'oggi quanti mental coach quanti life coach che appena dice che sei un life coach ti massacrano e ti dicono ah ne è arrivato un altro eccolo è la specializzazione è l'essere assolutamente uno dei migliori in una cosa molto specifica che se ci pensi è anche più facile che come fai a sapere tutto di tutto in una cosa enorme ma se invece hai circoscritto bene il tuo campo di intervento se tu sei veramente tutto sui canarini arancioni con le ali nere beh allora sei un esperto e poi lo devi comunicare al mondo il mondo lo deve sapere naturalmente se no è una magra consolazione ti pare? oh il ti pare oggi mi viene spontaneo bellissimo e poi mi convince quindi è bellissimo e volevo chiederti cosa tornando indietro lo rifaresti? perché hai detto che forse quella facoltà non ti ha dato tanto valore e tornando indietro che cosa faresti? io ho insegnato 12 anni ai master del Politecnico di Milano quindi sono un professore MBA e quindi ho incontrato tante persone che dopo la laurea si volevano fare un master alcuni addirittura era il secondo master un titolo di studio è sempre importante ci mancherebbe ma quello che conta di più è veramente la specializzazione io se tornassi indietro non rifarei economia e commercio ma all'epoca non lo potevo sapere non sapevo che strada prendere nella mia vita pensavo soltanto tra virgolette a stare con gli amici e avevo tante domande ma poche risposte ma queste sono cose che comunque ti temprano perché non tutti sanno cosa vogliono ma è molto più facile a volte sapere che cosa non vuoi da che cosa vuoi stare lontano e già quella è una bella informazione no? ti pare? una domanda perché questo c'entra anche moltissimo con con il vendere e quando si pensa a un'idea si pensa a un progetto immagino che voglio vendere questi canarini e dico ah secondo me se vendo questi canarini avrò successo come faccio a autoconvincere me forse facciamo finta che io sono già convinto come faccio a convincere anche gli altri che che la mia idea possa possa valere e che possa essere essere validata in un eventuale futuro e se seguendo la mia strada loro possano trarne profitto perché no? c'è stato un imprenditore di Lecco che voleva fare mobili unici al mondo di livello altissimo mobili per intenderci per milionari utilizzando i materiali più pregiati del pianeta che cosa ha fatto questo signore? ha realizzato dei portapastiglie in un legno pregiatissimo e li ha inviati gratuitamente a 5.000 miliardari sparsi per il mondo su questi 5.000 miliardari c'è stata una percentuale dell'8% molti di più l'hanno ringraziato ma una percentuale dell'8% gli ha detto è bellissimo questo oggetto che mi ha mandato mi piacerebbe saperne di più e lì ha creato un piccolo grande impero che vende mobili straordinari ai ricconi della terra quindi una volta che uno è bravo ad allevare canarini arancioni con le ali nere una volta che hai delle competenze una volta che sei diventato uno specialista di qualcosa di circoscritto è chiaro che il vero la vera sfida è farlo sapere al mondo oggi abbiamo infinite possibilità per farlo sapere al mondo che ieri non avevamo oggi abbiamo il web oggi abbiamo il web tu devi avere un marketing differenziante devi avere un posizionamento devi avere un'unicità tu ti devi presentare come il migliore esperto italiano per allevare canarini arancioni con le ali nere e poi magari regala alcuni di questi canarini magari a dei personaggi pubblici prendi le loro recensioni mettile nel tuo sito e quindi diventa ancora più credibile perché altre persone avvalorano quello che tu stai dicendo e cioè che sei il numero uno è chiaro che ci vuole un po' di tempo ma molto meno rispetto al passato quando ancora c'era il solito passaparola di persona oggi il passaparola online è straordinariamente veloce come sappiamo tutti e alcuni ancora non lo sfruttano è vero verissimo sei convinto che ne bastano poi alla fine cinque di clienti come questi non ne servono un milione basta che c'è cinque miliardari che investono su di te hai fatto quindi potrebbe essere anche questa una parte positiva nel regalare allora una cosa che non ho certo inventato io è questa il business funziona quando hai tre quattro cinque grossi clienti e hai tanti piccoli clienti se hai soltanto tre grossi clienti e uno di questi tre se ne va capisci che è drammatico perdi un terzo del fatturato quindi è importante avere quattro cinque grossi clienti che ti danno il grosso del business ma è importantissimo averne tanti piccolini che ti permettono di superare gli alti e bassi della vita questo sì come individuare davvero la propria strada come si fa cioè come faccio a conoscere dei marker che mi dicano sì questo questo è veramente la mia strada perché è difficile è veramente impegnativo io credo che una cosa che ci possa aiutare a scoprire quale potrebbe essere veramente la nostra strada è chiederci da bambini da bambini cosa ci piaceva fare quali erano i giochi che preferivamo fare da bambini eravamo dei bambini che giocavano sempre con altri bambini o ci piaceva giocare un po' più da soli facevamo dei giochi dove c'era molta competizione o facevamo dei giochi o facevamo dei giochi dove c'era molta più socialità da bambino dov'è che ti divertivi di più perché il tuo bambino c'è ancora naturalmente e forse si sente dire ogni tanto una frase tipo trovati un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno della vita il lavoro ideale non esiste naturalmente tutti i lavori hanno luci e ombre cose belle e cose rognose poco ma sicuro dai è altrettanto vero che io credo che pensare al nostro bambino ci possa aiutare a capire meglio dove troviamo veramente gratificazione quale potrebbe essere veramente la nostra strada non è una domanda facile tuttavia vale la pena chiedersi io da bambino dove mi divertivo di più e soprattutto a qualche attinenza con quello che faccio oggi se già sto lavorando questa è una buona domanda nel tuo caso? come? com'eri? com'eri nel tuo caso da bambino? io da bambino ero uno che giocava sempre a pallone giocavo sempre a pallone e ero un po' a rompiscatole perché io non giocavo per giocare io giocavo per vincere naturalmente io sono sempre stato competitivo e forse per questo che oggi mi diverto moltissimo a vendere io mi diverto a vendere io chiedo lo sconto sempre ma sai perché chiedo lo sconto sempre? perché mi diverto a vedere come gli altri poi gestiscono lo sconto ci sono quelli che magari non ti fanno un euro di sconto ma ti mandano via felice perché sono bravi e quelli che invece calano le braghe perdono marginalità pensando che se non ti fanno lo sconto perderebbero un cliente quando magari invece io avrei comprato ugualmente mia moglie mi ha sgridato perché ho chiesto lo sconto anche due volte al supermercato al supermercato ho detto signorina guardi il carrello quanto è pieno non me li regala quei bicchieri io mi diverto a negoziare a me piace negoziare e da bambino infatti ero anche un po' troppo competitivo mettiamola così ero un bel rompipalle diciamolo da oggi io ti assicuro che chiederò sempre lo sconto proprio sicuro 100% avrai avrai dei video che vloggeranno questo ok mi si imparano tante cose a chiedere gli sconti vai vai Andrea giusto e anche si impara poi a autovendersi a chiedere perché questo non lo insegnano a scuola ecco questo è un bel punto a scuola non cioè l'educazione non va incontro alle esigenze che poi si ritrovano nella vita reale come ad esempio questa o relazionarsi o usare il proprio corpo o il linguaggio perché? ah beh io farei dei corsi di parlare in pubblico dei corsi di teatro obbligatori a scuola il parlare in pubblico il tra virgolette anche recitare ci dà più autostima naturalmente serve in tantissime situazioni della vita lavorativa e professionale no? ci sono persone che sono delle grandi menti ma non sanno comunicare allora cosa te ne fai? e poi c'è il sottotitolo di un mio libro che dice dalla vita non otterrai quello che meriti ma quello che saprai negoziare io credo che sia una cruda verità dalla vita non otterrai quello che meriti ma quello che saprai negoziare cioè non vince il più bravo il migliore vince con lei o colui che viene percepito come il più bravo o il migliore e se l'ha fatto in modo etico senza varare e beh anche queste sono competenze ha saputo valorizzare di più quello che fa o quello che propone giusto? giusto sono d'accordo assolutamente sì noi siamo in un'era della comunicazione ovvero che se ho parlato ho fatto un'intervista con una recruiter e lei diceva che ci sono due ci sono due figure facciamo finta due calciatori un difensore due difensori centrali questi due sono tutti e due su linkedin e fanno un loro profilo mettono uno fa un super profilo mette dei video eccetera però è molto più scarso dell'altro che ha messo semplicemente il suo nome la sua altezza è un video mezzo sfocato quello che era nettamente più bravo non viene non viene preso perché non cioè comunica la sua capacità le sue doti in maniera molto molto più bassa rispetto a quell'altro e quindi quindi ti autoscredita quindi ti racconto una cosa Andrea mio figlio Riccardo si è laureato in Bocconi non col massimo dei voti comunque con una buona media mi sembra 106 non trovava facilmente lavoro appena laureato ha trovato un lavoro di 6 mesi ok quindi un contratto a termine di prova di 6 mesi con un stipendio diciamo pure medio basso cosa che è tipica a molti giovani neolaureati anche in Bocconi voglio dire un suo amico invece ha trovato un lavoro fantastico appena laureato adesso ti dico come ha fatto perché magari può essere interessante per chi ci segue primo sì sì assolutamente oltre a mandare il solito cv ha mandato un breve video su una chiavetta dove si presentava in video questa è una cosa che ahimè ancora pochissime persone fanno non è detto che i recruiter le vedano tutte ma qualcuno li vede questi filmati e comunque ti aiutano a distinguerti dagli altri secondo questo breve video siccome questo ragazzo non aveva esperienza di lavoro aveva appena terminato di studiare più o meno diceva così buongiorno mi chiamo bla 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 io questo è il mio percorso di studi io non posso certo dire di avere un'esperienza di lavoro perché ho appena finito il mio percorso di studi anche se credo che continuerò a studiare forse per molti 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 anni tuttavia mio padre mi ha insegnato che l'onestà paga una persona che stimo molto mi ha anche insegnato che il vero datore di lavoro in un'azienda è il cliente è lui che alla fine ci paga lo stipendio e quindi è lì che dobbiamo andare a superare le aspettative mi hanno anche insegnato che la correttezza nel medio e lungo periodo paga sempre e che avere una rete di relazioni di una certa qualità ci aiuta anche a stare meglio con noi stessi e con gli altri e penso che tutti vorrebbero avere una persona che ha questo tipo di mentalità non crede? ecco questo era il suo breve video devo dire che lui l'aveva fatto meglio io l'ho improvvisato in questo istante io lo assumerei ora io come minimo lo voglio incontrare come minimo lo voglio incontrare e lo voglio incontrare subito e parti già bene ti pare? ecco anche qua possiamo distinguerci e differenziarci sono innanzitutto d'accordissimo che quando si fa questa figura imprenditoriale si pensa vabbè faccio un imprenditore perché non ho un capo ma non è vero hai un milione di capi se il tuo prodotto viene venduto a un milione di persone perché poi alla fine quelli che ti governano come hai detto sono il consumatore stesso quindi è una bugia anche questa è una cosa che dobbiamo sfatare assolutamente e poi volevo volevo dirti e chiederti che esperienza hai riguardo l'università l'nba ho visto che i dati sono sono scesi ormai molta meno gente si iscrive a questi master perché molto spesso come dici anche se vai in bocconi poi non trovi lavoro o se fai l'nba non trovi lavoro però credo che tu abbia già risposto vuoi aggiungere qualcosa? nei momenti in cui una persona ha un'idea di quello che vuole fare nella vita secondo me il master è una buona scelta oggi ci sono dei master anche brevi tre mesi sei mesi che però ti danno una specializzazione e le aziende cercano sempre più una specializzazione poi sappiamo benissimo che l'esperienza sul campo è quella che conta e non c'è nessun master teorico didattico che possa sostituire l'esperienza sul campo è altrettanto vero che un master conta io quando ho insegnato al master del Politecnico ero molto curioso della pagella che mi davano i miei allievi perché ogni fine mese mi arrivava la pagella come a tutti i prof una pagella che non era tanto è stato bravo parlava in modo chiaro che sono cose poco rilevanti c'erano degli indicatori molto molto più seri ad esempio qualità dei contenuti applicabilità pratica dei contenuti livello di innovazione dei contenuti ecco un master se fatto bene e in Italia ce n'è più di uno secondo me vale vale più di una laurea permettimi di dire questo che normalmente è piuttosto generica su cosa conviene investire al giorno d'oggi per trasformare i propri sforzi in risultati conviene investire su due cose primo devi sapere tutto dei canarini arancioni con le ali nere quindi devi studiare farti esperienza in una cosa molto 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 specifica e poi come abbiamo detto prima farlo sapere al mondo se no resti lì in un angolo col tuo sapere non te ne fai granché secondo devi avere un mentore devi frequentare persone maledettamente in gamba io conosco una giovane che da bambino con la famiglia dalla Sicilia erano immigrati a Torino finita la scuola dell'obbligo questo ragazzo ha fatto l'operaio nei cantieri edili doveva contribuire alla famiglia quindi faceva l'operaio nei cantieri edili e vedeva arrivare questi agenti immobiliari magari con la Mercedes magari con la giacca e la cravatta e lui si diceva mi sa che ho sbagliato tutto nella vita io qua mi faccio un mazzo tanto per pochi soldi io qua devo farmi tre docce ho le mani piene di calce e quelli che non fanno niente vanno in giro in Mercedes e che cosa ha fatto questo ragazzo? è andato a rompere le scatole a tutte le agenzie immobiliari di Torino dicendo io voglio diventare un agente immobiliare non ti chiedo un euro ti chiedo soltanto la possibilità di andare in affiancamento con i tuoi agenti più bravi per imparare un mestiere io investo del tempo della mia vita per imparare un mestiere ti prego e poi se magari pensi che possa essere utile parliamone me lo permetti? bene gli hanno detto no 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 un'agenzia immobiliare dopo un po' gli ha detto va bene ora questo ragazzo che è un uomo è diventato un uomo è passato ad avere un'agenzia immobiliare poi un'altra poi un'altra ancora insomma ha una rete di 25 collaboratori è una persona di successo lui ha fatto questo lui andava in affiancamento con quelli bravi lui prendeva appunti lui era una spugna quando io facevi corsi lui era sempre in prima fila sempre pronto col blocnotte e se la penna e poi mi chiamava dopo due giorni e mi diceva sai Emanuele quella tecnica lì l'ho messa in pratica e è successo questo ecco bisogna avere tanta tanta fame e poi bisogna conoscere persone che ti diano da mangiare cibo buono naturalmente giusto il mentore è vero che rende il tuo obiettivo fattibile cioè come è come dire io vedo il mio mentore che fa un vlog ad esempio di quello che io vorrei fare e lo applica io vedo il suo percorso come lui lo rende reale quello che io immagino ovviamente nella mia vita e quindi avere un mentore oltre a ovviamente aiutarmi mi dà anche senso di potercela fare perché se l'ha fatto lui posso farlo anch'io sì un mentore vero tutto vuole tranne che tu diventi la sua fotocopia ci mancherebbe un mentore vero deve aiutarti a essere tu a sviluppare la tua personalità ti faccio un esempio il mio primo mentore è stato il mio primo capo sono stato molto fortunato si chiamava Franco De Giglio era veramente una persona carismatica era la CEO di quella società di consulenza di cui ti parlavo all'inizio che all'epoca era la prima d'Italia lui parlava con i fratelli Barilla con Tronchetti Provera conosceva un po' tutti i grandi industriali italiani e io all'inizio gli facevo da autista gli pulivo l'ufficio scusami facevo la mia gavetta però lo accompagnavo a volte a questi appuntamenti e io mi ricorderò sempre nello studio di una delle più grandi multinazionali presenti in Italia lui parla col CEO e alla fine questo gli dice bene dottor De Giglio mi dica qual è il vostro onorario e Franco De Giglio gli dice considera che siamo nel 1990 il nostro onorario è 5 milioni e 200 mila lire al giorno 2600 euro di oggi nel 1990 una cifra pazzesca e tu vedi questo amministratore delegato che fa un salto sulla sedia e dice 2600 euro ma noi collaboriamo con la Stabocconi con questo abbiamo delle cifre completamente diverse e Franco De Giglio gli risponde capisco ma del resto se i nostri clienti non avessero un ritorno dell'investimento più che significativo non potremmo essere l'azienda numero uno in Italia non crede? prende e se ne va e dice ci pensi pure mi faccia sapere e se ne va cioè io non ho mai visto di solito è il cliente che ti congeda quando sei nel tuo ufficio e io dietro di corso imbarazzatissimo e dentro di me pensavo ma io avrò mai le palle il pelo sullo stomaco di fare cose di questo tipo beh frequentando Franco De Giglio io ho imparato una cosa la timidezza lasciala alla concorrenza chi se ne frega tu provaci a volte va bene a volte non va bene ma una cosa è certa se non ci provi va male ecco un mentore ti dà delle lezioni di vita di questo ti dà le lezioni di vita che ti spronano e che ti modificano il carattere perché il carattere non è immutabile per fortuna come diceva lo scrittore siciliano Silone il carattere è l'alibi dei perdenti noi siamo animali in evoluzione ogni giorno cambiamo qualcosina di noi stessi ed è bellissimo questo è meraviglioso questo il più grande rischio è non rischiare esattamente verissimo esattamente e ti do raccontare questa storia perché io mi sento un po' un po' colpevole come ti dicevo all'inizio io ho questo mentore questo mentore si chiama Stephen Bardet e ha questo podcast che si chiama Diary of SEO che io ascolto due ore al giorno come minimo fondamentalmente io l'ho conosciuto dopo che ho iniziato il podcast cioè lui è diventato il mio mentore dopo che io iniziassi il podcast quindi non è che faccio il podcast per lui però abbiamo questa cosa in comune fatto stai ho iniziato a indagare lui fa molti vlog su di sé sulla sua vita e ora mi vesto come lui lui si veste solo nero io mi vesto solo nero e bianco mi sono tagliato i capelli però per un senso non per copiare lui perché lui fa questa cosa perché perde poco tempo perché non deve mecciare quando si sveglia quindi si mette tutto nero tutto bianco cioè lui tutto nero in realtà io nero e bianco e non perdo tempo nell'armadio eccetera eccetera ma secondo te è giusto arrivare a proprio quasi emulare la vita di queste persone come se fossero rockstar come se fosse un cantante all'inizio probabilmente è giusto perché ci dà più sicurezza perché quando uno è giovane non può avere la sicurezza l'esperienza il vissuto di uno che ne ha già viste tante all'inizio secondo me emulare gli altri tra virgolette anche copiare un po' gli altri ci può anche stare ecco che poi arriva un momento in cui dici ok a me nero non piace magari mi vesto sempre di blu cerco anche anche qua di smechare ma magari trovo la mia strada penso che questa sia l'evoluzione normale e piacevole di una persona del resto l'abbiamo fatto da bambini da bambini quello che ci dicevano i nostri genitori quando eravamo piccoli ah la mamma era la mamma più brava e più buona del mondo papà anche poi abbiamo cominciato a diventare Bastian Contrari della serie mio padre dice così e io dico il contrario è un po' il percorso della vita ci sta a marzo senti questa questa è una bomba lo vado a vedere vado a Londra lui è a Londra e fa un evento io ho detto vabbè lo vado a vedere c'era la possibilità di comprare il biglietto VIP per poterlo incontrare e farsi una foto quindi avrò la possibilità di avere forse un minuto del suo tempo e fargli una domanda però io ti assicuro che tutti i giorni io penso ma che gli chiedo ma che gli posso chiedere non so cosa chiedervi perché perché secondo me non non so forse non ha senso forse ha senso fargli questa domanda fossi nella mia situazione hai questo idolo hai l'opportunità di andarlo a vedere avere un minuto del suo tempo ovviamente uno a uno cosa faresti? ce ne avrei un centinaio di domande da fare la prima che mi viene in mente è dammi un consiglio su come investire meglio il tempo dimmi un piccolo trucco ma piccolo è pratico immediatamente applicabile per non sprecare tempo e investirlo nel migliore dei modi questa è la prima e poi poi ce ne sono tante tante altre domande che si possono fare un'altra domanda è secondo te che cosa fa realmente la differenza tra una persona discreta e una persona realmente vincente una cosa che secondo te fa realmente la differenza una cosa su cui vale la pena realmente lavorare mi rispondi a questa domanda a questa domanda a quest'ultima domanda devo un po' tornare indietro rispetto a quello che ci siamo detti capire quello che ti piace e poi diventare uno specialista di quella cosa lì e poi farlo sapere al mondo ti confido una cosa Andrea io vengo considerato il maggiore esperto di carisma a livello europeo ok ho insegnato 12 anni ai master carisma ho scritto questo best seller 90.000 copie sul segreto del carisma ho realizzato dei progetti dei percorsi con molte aziende di 21 paesi sul carisma ok però è una cosa grossa questa ti dirò una cosa questa definizione maggiore allo esperto europeo di carisma me la sono un po' tra virgolette creata anch'io ma non sto scherzando e te lo confido molto serenamente ho fatto una ricerca e ho cercato nel mondo chi fossero i maggiori esperti di carisma e ho scoperto che nel mondo ci sono due americani e un giapponese veramente accreditati che hanno scritto libri che insegnano in università in Europa non c'è nessuno a quel punto dopo che qualcuno mi ha considerato uno dei maggiori esperti di carisma ho detto ok questa può essere una buona etichetta la domanda è che etichetta scegliamo per noi stessi il miglior allevatore di canarini arancioni con le ali nere o qualunque altra cosa ma quell'etichetta è poi quello che si chiama il personal branding è il tuo brand è il tuo biglietto da visita e nel tuo brand beh la salute va e viene lo sappiamo i soldi vanno e vengono l'unica cosa che perdura è il carattere e quindi se devo rispondere a quella domanda cosa fa la differenza tra una persona discreta e una veramente vincente io non ho dubbi io ti dico il carattere verissimo verissimo tutto giusto e come e quanto è importante creare un personal brand cioè apple vende determinati prodotti a un determinato prezzo perché oltre a avere un determinato prodotto di super qualità è un brand ha una cultura dietro che tutti sanno quanto è importante beh ci sono vari tipi di brand ci sono i brand seri della serie tu sai che quella è una marca seria perché qualità eccellente affidabilità garanzie puntano puntano molto sulla serietà sull'affidabilità sulla tradizione sulla storia poi ci sono i brand simpatici i brand simpatici sono a volte anche un po' le moda del momento il braccialettino che quelle state lì tutti vogliono e magari l'anno dopo non vuole più nessuno c'è un concetto che è il love brand il brand dell'amore il brand dell'amore è fatto sia di sentimento che di ragione sia di testa che di cuore cosa significa questo differenziarsi e questa è sempre la parola d'ordine ad esempio se gli altri offrono una garanzia di due anni tu offri una garanzia di quattro anni se gli altri consegnano in 72 ore tu fai salti mortali e consegna in 48 cioè se tu hai un vantaggio competitivo chiediti in che cosa sono migliore rispetto agli altri quello è il tuo marketing differenziante quella è la leva su cui Archimede direbbe possiamo sollevare il mondo quella è l'unica cosa che il mondo deve sapere in che cosa sei diverso e migliore rispetto agli altri e quello e beh quello è il tuo brand alla fine alla fine è quello ultima domanda in realtà ultime due dai volevo chiederti sul libro e poi è iniziata una una nuova cultura un nuovo gioco che facciamo che praticamente l'ultimo ospite dell'episodio 32 in questo caso noi siamo il 33 in questo momento lascia una domanda senza sapere chi c'è al prossimo episodio una domanda fatta da questa persona che è una ginecologa e una dottoressa e ti ha lasciato una domanda iniziamo però una ginecologa da una ginecologa mi inizia a preoccupare comunque vai spara volevo chiederti sul libro cioè ovvero come ti è venuta l'idea di scrivere un libro quali sono state le tecniche che hai usato e quanto tempo effettivamente ci vuole per scrivere un libro io ho scritto tre libri sono tutti e tre dei best seller Il segreto del carisma l'ho scritto diversi anni fa 19 ristampe Vendere una scienza l'ho scritto mi sembra sette o otto anni fa ed è arrivato la settima ristampa e corre il rischio di vivere felice l'ho scritto durante il lockdown e adesso è in ristampa la seconda ci impiego una vita a scrivere i libri io non so come fanno certe persone a scrivere un libro in tre mesi non lo so non lo so non è mai finito il mio libro ma soprattutto la domanda che mi pongo è qual è l'idea originale l'idea originale ad esempio del segreto del carisma è che il libro ogni capitolo 23 capitoli sono divisi a metà la prima parte è un racconto è un racconto parla al cuore alcuni racconti fanno ridere altri fanno piangere altri fanno riflettere altri tirano dei pugni nello stomaco è un racconto è emozionale la seconda parte dello stesso capitolo invece è pratica della serie una volta che l'emozione ce l'hai la senti la vivi la tocchi cosa te ne fai come la traduci in comportamenti in risultati quindi è un continuo alternare cuore mente emozione ragione cuore mente forse per questo che è piaciuto molto quindi l'idea è ormai quasi tutti scrivono libri qual è l'idea originale che cosa ha di originale quel libro scusami ancora l'ultimo Corri il rischio di vivere felice l'idea originale è questa è un libro che invece parla all'anima e è un romanzo è una storia d'amore pazzesca pazzesca in parte anche un po' autobiografica visto che fra meno di due mesi mi sposo e sposarsi a 61 anni è una figata ok è solo che visto che io non scrivo romanzi in realtà è un libro di crescita personale però è scritto a mo' di romanzo e forse è per questo che è piaciuto molto perché c'è gente che se lo divora in una notte intera non riesce a smettere quindi è l'idea originale anche qui l'unicità dell'idea scusa la domanda puoi anche non rispondere perché ti sposi? perché io sono milanese nata e cresciuta a Milano mi sono separato otto anni fa avendo due figli grandi potevo stare a Milano potevo andarmene da qualunque parte a vivere ho scelto di andare a vivere a Riccione da otto anni io abito a Riccione quattro anni fa ho incontrato una riccionese che ha una ragazzina una figlia che ha dodici anni quindi sono tornato a fare il papà e siccome è splendida ed è dolcissima fra meno di un mese il 23 marzo fra meno di due mesi ci sposiamo perché no scusa e ora la domanda lasciata a caso la domanda è questa cosa ti rende felice? mi rende felice perdonami se ti dico queste parole perché le avrai già sentite chissà quante volte ma se le abbiamo sentite tutte chissà quante volte forse un motivo c'è mi rendo felice sono felice quando mi rendo conto di essere stato utile quando io vedo quando faccio un seminario vedo la gente arrivare scoglionata e poi la vedo uscire con un'espressione diversa che arrivano e mi dicono grazie Emanuele grazie davvero ecco quella è la mia gratificazione quello va nel prezzo di qualunque cosa è quello che riesce a portare come piccolo contributo nella vita delle persone tutto qua che non è poco questo era Emanuele Maria Sacchi grazie Emanuele troverete tutti i link di Emanuele della sua pagina Instagram TikTok libri qualsiasi cosa il suo sito ovviamente nel nostro link in descrizione grazie ancora Emanuele Andrea un saluto a te a tutti quelli che ci hanno seguito state davvero bene ah posso dire qual è il mio proverbio preferito cioè chi si accontenta chi si accontenta non gode non è chi si accontenta non è chi si accontenta gode no 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 chi si accontenta gode triste chi si accontenta gode rimissivo chi si accontenta gode vola basso il mio proverbio preferito e spero che forse possa diventare anche il tuo chi si accontenta sbaglia questo è il mio proverbio preferito ciao a tutti ciao a tutti impegnativo ma si può fare e vai ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti